In provincia di Chieti situazione drammatica per quella che è diventata una vera e propria emergenza idrica. Il punto della situazione ieri nella sala consigliare del comune di Vasto con l'illustrazione di dati a dir poco inquietanti. La portata delle sorgenti al di sotto di livelli che non si registravano da almeno 20 anni. Frazioni di interi comuni praticamente senza acqua, con richieste di aiuto da parte dei sindaci alla Sasi che fa quello che può. Situazione drammatica anche sulla costa, in particolare su Vasto e San Salvo. Con questo incontro regione, gestori, protezione civile ed altri, già dall'altra settimana, solo io, devo dire con franchezza e l'assessore imprudente, dicevamo, volevamo far capire alla protezione civile che non era più una crisi, era un'emergenza già dalla settimana scorsa. Solo ieri, dopo una pressione, insieme a noi, gli uffici regionali, l'assessore eccetera, siamo arrivati a sta benedetta riconoscimento di non crisi ma emergenza. Si stanno attuando tutte le documentazioni necessarie per attuare questo esercizio. Quindi la Sasi comunque sta facendo tutto il possibile? Per il momento sì, per i mezzi a disposizione, per la forza a disposizione, per l'acqua a disposizione, stiamo facendo i salti mortali. Mi dispiace che ci stanno realmente tante famiglie, molti sindaci oggi hanno detto che da cinque giorni non hanno acqua nel proprio territorio, non hanno l'acqua non nel proprio territorio ma in una parte di territorio. Ma anche questa parte va salvaguardata e protetta perché è impensabile che anche se siano dieci, ma sono, vi posso assicurare, centinaia e centinaia che non è solo questa zona, abbiamo scelto questa zona perché è quella più grave, ma tutte le frazioni di Ortona stanno soffrendo veramente con intensità enorme. Serve un intervento strutturale oltre alla richiesta formale di stato d'emergenza. Lo chiede a gran voce il sindaco di Vasto, Francesco Menna, anche in qualità di presidente della provincia. È necessario dare risposte e noi sindaci dobbiamo dare risposte urgentemente. Chiederò a Sua Eccellenza il Prefetto di insediare subito un tavolo sulla crisi idrica e d'altro canto chiederò anche a Regione Abruzzo, a Ersi, Consorsi di Bonifica, Arap, ma soprattutto a Ersi e a Regione Abruzzo di insediare il tavolo regionale della crisi idrica sul futuro, sui investimenti da fare, su una strategia da porre in campo. Non possiamo essere lasciati soli su questo tema, il silenzio non fa bene a nessuno, ci servono risposte urgenti e immediate. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto della Cioppa che in queste ore, in questi giorni, ci ha sempre convocato sulla crisi idrica, fino a ieri è arrivata un'altra missiva. Ma è importante avere una strategia comune, una strategia come Regione, una strategia che riguarda tutte e quattro le province, ma soprattutto una strategia politica sulla risorsa idrica che dia risposte nel breve, medio e lungo termine.